Nuova luce a Piadena, Drezona, con due progetti in procinto di partire, come sottolinea il sindaco Matteo Guido Priori. L'oledì partono quelli dei attraversamenti pedonali intelligenti e quindi quando tutti avvicini, il pedone si avvicina, si accende la luce e quindi si accende la luce in maniera di intensità più forte per segnalare la presenza del pedone, ecco. E poi dopo faremo, invece, parte il bando Illumina, l'organizzazione pubblica, il bando che abbiamo vinto di 300.000 euro con il rifacimento di 200 punti luce in giro per il paese, più una ventina di punti luce nuovi, ecco, quindi sostituzioni, tutto quello che è il cablaggio, le lampade e via. Ma non si tratta dell'unica novità, per un'estate all'insegna dei lavori pubblici alcuni anche molto attesi. Il restauro è rimessa a posto, diciamo, della zona Monumento Caduti e quindi è il posizionamento del Monumento Nuovo ai Carabinieri e il riposizionamento delle colonne del vecchio monumento. Poi c'è in ballo via dosso, riqualificazione della via con riposizionamento di quelli che sono i parcheggi laterali, pista ciclabile per condurre praticamente gli allievi e chi va in bicicletta, gli alunni alla scuola e poi la presenza delle nuove piante che mettiamo in quella via lì in via dosso. Ho capito.